Il programma del Comune di Gorizia presentato la scorsa settimana viene implementato dal programma della Camera di Commercio che ha voluto dare un contributo importante e da quest'anno partire un esperimento si chiama videomapping che sarà fatto appunto nel 23-24 del 25 per cui oggi abbiamo presentato la musica in tutta la città, la filodiffusione che darà un po' di calore e allegria alle feste natalissime, avremo per la prima volta un mercatino con le casette di legno che quest'anno partiamo, il nano zero, poi via via nei prossimi due anni verranno implementate ma è già un buon inizio e la chicca è quella di usare l'intelligenza artificiale per raccontare delle storie, quest'anno racconteremo le storie di Sant'Ignazio proprio perché proietteremo per la facciata della chiesa il racconto di Sant'Ignazio, di come è stato creato nel 1400 quando è nato fino ad arrivare ai nostri tempi, poi racconteremo la storia delle sole orsoline della scuola dei Merletti e racconteremo della Gorizia del Settecento in tutto in modo fiabesco per aiutare bimbi e adulti per cui direi che è un contributo importante di un esperimento importante che facciamo parlare i palazzi e faremo parlare le facciate in questa volta della chiesa e via via allarglieremo. Sarà un Natale importante, la Camera di Commercio ci è impegnata molto, questa è una delle iniziative che andremo a fare durante il 24 e il 25 per avvicinamento allo 2025. Senso dubbio è un Natale con effetto wow, come piace dire a me, grazie a una rete eccezionale che è stata fatta tra Camera di Commercio, Regione, Airpac, Comune, Commercio, Compagnicoltura e tantissimi altri soggetti sia pubblici che privati. Siamo riusciti perciò a impostare davvero un percorso che traguarderà il 2025 per dare a Gorizia sempre un maggior appeal capace di attrarre perciò un beneficio per i cittadini ma anche una forte capacità attrattiva per tutti coloro che non appartengono alla nostra città. Speriamo che questo naturalmente giovi anche all'acquisto. Sì, diciamo che sono molto contento che venga presa questa iniziativa e che venga realizzato questo progetto perché porta avanti un po' quello spirito che ha ispirato i gesuiti a costruire la chiesa di Sant'Ignazio. Uno spazio che apre alla meraviglia, che apre allo stupore e che fa sì che guardando una cosa bella, qualcosa che suscita l'immaginazione, uno possa aprire il spazio di cielo nella sua vita. Le forme sono chiaramente diverse, anche il linguaggio visivo è diverso di quello che troviamo dentro la chiesa, ma l'intuizione di fondo credo che sia la stessa, quello di suscitare la meraviglia, di aprire l'immaginazione perché tutti si possono incontrare con lo spazio di cielo che si porta dentro di sé. Quindi sono molto contento che l'intuizione di Sant'Ignazio, dei primi gesuiti arrivati a Corizia, venga portata avanti con mezzi che la tecnologia oggi ci offre.